Dovremmo essere al sicuro, ma secondo me a Fate non dispi... Come se non avessimo abbastanza problemi. Vice, devo chiederti una cosa. Hai mai sentito parlare di un certo Fini? Era il farmacista della città, rispettato da un sacco di gente. Pensavo fosse un pilastro della nostra comunità, ma si è scoperto che era solo uno spacciatore. Fini ora sta con la setta. Li ha aiutati a creare il Gaudio. Pare che sia la Serra Jessop. Era un posto bellissimo prima che... Beh, prima. Ora Fini la sta usando per far crescere il suo veleno. Ci sono soltanto quei fiori del demonio. Il che mi fa pensare che se vai là e bruci tutti i suoi fiori... Beh, sono sicuro che Fini si farà prendere dal panico. È una buona stessa. Se non ci dà una mano qualcuno all'esterno, dovremmo vedercela collati gli aviati fatti. Abbiamo ricevuto una chiamata da Sharky Boshu che pare abbia un'idea geniale per spazzare via la setta. Il problema è che Sharky Boshu è un cretino colossale e il suo piano sarà qualcosa tipo fuoco. Abbiamo difeso la nostra base grazie a te. Joseph ha adottato Fate. Impazzirà di rabbia quando verrà a sapere che hai ucciso suo fratello John. Ehi. Ehi. Salve. Al momento che questa non se l'aspettava. ale. Al momento che questa non si l'aspettava. Grazie a tutti.